Gli enti sapevano il malfunzionamento del depuratore di Chieti era noto da anni e questo quadro emerge proprio dalla lettura dell'ordinanza della magistratura che ha portato quattro arresti la scorsa settimana. Nel documento si richiamano le relazioni dell'Arta a partire dal 2010 e ancora nel 2013, 14 e 15. Nell'ordinanza della magistratura è inequivocabile il fatto che l'Arta avesse segnalato fin dal 2010 gravissime lacune impiantistiche. Diceva che quell'impianto non funzionava e nonostante ciò non risulta che la Regione Abruzzo, in particolare il servizio rifiuti della Regione, sia mai intervenuta se non poi al 2015, a caso ormai conclamato, per sospendere o meglio addirittura togliere l'autorizzazione al trattamento di 220.000 metri cubi di rifiuti liquidi che appunto era stata rilasciata nel 2009 a questo consorzio. Adesso si attendono risposte dalla Regione, spiegano gli ambientalisti se quelle relazioni sono passate per le mani dei dirigenti preposti e se sì perché nessuno ha mai fatto niente, nessuna pubblicazione sul sito, nessuna documentazione di quello che stava succedendo. Noi chiediamo poi alla Regione Abruzzo, in particolare al dirigente del settore rifiuti Gerardini, risposte sia su questo fatto sia sulla gestione in generale dei rifiuti in Abruzzo perché la legge prevede che i controlli siano pubblicati sul sito della Regione ma sul sito della Regione non c'è nulla. Lo stesso chiediamo al servizio via della Regione, al dottor Longhi, perché non si pubblicano i controlli sugli impianti autorizzati. Alle ASL poi invece chiediamo l'aspetto sulla salute. Con tutti questi scandali che si ripetono nella Val Pescara, che è un vero disastro ambientale, cosa stanno facendo e anche in questo caso cosa pubblicano sui loro siti, noi non troviamo mai nulla.